Noi chiediamo di ripristinare il buonsenso e tornare a condividere con la grande maggioranza dei cittadini i valori del mondo occidentale. Sono valori che in grande misura sono stati creati nell'antico a Roma. Credo inoltre che la Prima Ministra Meloni e io abbiamo una questione comune in una dimensione politica ma anche personale. Noi due siamo stati scelti per condurre i destini dei nostri paesi per affrontare con coraggio e verità quello che potrebbe essere il problema centrale di ognuna delle nostre nazioni. Nel mio caso finire con l'inflazione esagerata e la miseria profonda che hanno lasciato in Argentina decenni di collettivisti. Nel caso del Primo Ministro Meloni dare una risposta contundente al problema della migrazione fuori controllo. Le conseguenze sulla sicurezza dei cittadini. Pochi presidenti al mondo osano dire la verità alla cittadinanza e affrontare i problemi strutturali dei loro paesi. Si possono contare sulle dita ad una mano e come noi due lo sappiamo non è gratis fare una cosa così. Siamo stati puniti dal establishment politico ed economico perché preferiscono gestire la decadenza invece di assumere il rischio di costruire le soluzioni. Noi resistiremo perché sicuramente vinceremo anche se loro giocano con vantaggi. Noi vinceremo perché sono loro che non riconoscono la realtà e difendono idee strane ai nostri popoli. E perché noi siamo motivati da una causa nobile che i nostri cittadini si sentano orgogliosi di essere argentini e italiani.